L'ospedale Sandonato di Arezzo è uno dei due ospedali covid nell'area dell'AS Toscana Sud-Est. Il livello di attenzione in queste ultime settimane con l'impennata di casi nel territorio aretino si è notevolmente alzato. Per adesso, ci spiega il direttore Barbara Innocenti, l'ospedale continua a mantenere aperti i suoi reparti, ma è una situazione in evoluzione. Noi chiaramente non possiamo far altro che ipotizzare degli scenari, degli scenari incrementali e per ciascuno di questi scenari prevedere il tipo di risposta che possiamo dare. Io posso dire in questa fase che noi abbiamo mantenuto inalterata la nostra attività. Poi chiaramente dobbiamo prevedere un incremento di casi che coinvolgerà un settore dell'ospedale che noi abbiamo già riservato ai pazienti covid e in quel settore i pazienti troveranno risposta fino anche ad un numero molto importante di ricoverati. Possiamo arrivare fino ad 80 ricoverati in un settore totalmente dedicato. 80 posti, ci spiega sempre la dottoressa Innocenti, è un numero che non è stato mai raggiunto nemmeno nei primi mesi della pandemia, ma a differenza di allora, oggi le persone circolano, le scuole sono aperte e la possibilità di contagio è maggiore. A marzo ed aprile eravamo in lockdown, quindi tutti o quasi tutti erano in isolamento domiciliare in pratica. Oggi non è così, oggi ognuno di noi va al lavoro, i nostri figli vanno a scuola, frequentano gli amici, frequentano le palestre, quindi è assolutamente indispensabile mantenere alta l'allerta. Utilizzare i dispositivi, utilizzare la mascherina, igienizzare le mani, garantire le distanze ogni volta che ci troviamo in locali chiusi ovviamente, ma anche all'aperto quando ci troviamo in situazioni di rischio di affollamento. A questo punto approfitterei anche di dire di ricordarsi le regole di accesso in ospedale. In ospedale è fondamentale che entri chi ha la necessità di fare la prestazione, gli accompagnatori, se non sono indispensabili per le condizioni dell'utente, possono e anzi dovrebbero non entrare in ospedale. Questo per garantire comunque che anche nelle sale d'attesa si possano rispettare le distanze di sicurezza. Lo stesso rispettare gli orari di visite ai pazienti ricoverati, garantendo un massimo di un familiare al letto del paziente, sempre per le stesse motivazioni. I ricoveri sono infatti aumentati in breve tempo nel reparto di malattie infettive e per il momento nessuno in età pediatrica. Oggi registriamo 23 pazienti ricoverati con un lieve aumento rispetto anche soltanto a una settimana fa. Sono pazienti con patologie già pregresse o anche persone con sana e robusta costituzione. La casistica è abbastanza varia. È chiaro che in molti casi i pazienti hanno anche una comorbosità, quindi la presenza di altre patologie, però ci sono anche delle situazioni nelle quali la polmonite, che è la patologia più tipica dell'infezione, si manifesta in soggetti anche senza precedenti condizioni predisponenti. In malattie infettive la situazione è abbastanza variabile fra paziente e paziente. Certo, in terapia intensiva i casi sono più impegnati e più spesso si tratta di pazienti che hanno una storia pregressa di altre patologie. Al momento abbiamo quattro ricoverati in terapia intensiva.